Il Porto Maurizio Yacht Club guarda al futuro e festeggia traguardi importanti, sono 65 anni di storia con 45 anni di presidenza di Fulvio Parodi e una nuova sede che è quella dove siamo adesso. Esatto, finalmente abbiamo realizzato un sogno, ci è stato dato questa sede dalla Goimperia che ringrazio il suo presidente e ringrazio comunque il comune di Imperia e il suo sindaco. Questa sede che abbiamo adesso un po' attrezzato con dei ricordi della nostra esistenza e oggi ci prepariamo, stiamo aspettando amici e soci per festeggiare questo risultato. Ma non è, è un traguardo ma è già una ripartenza perché qua significa andare avanti comunque. È una ripartenza, il Sodalizio ha avuto degli alti e bassi, negli anni 90 molto alti, anzi mi pecco dicendo altissimi. Adesso siamo ripartiti, siamo ripartiti pian pianino, sempre con il contributo della Goimperia che ci sostiene, ci aiuta dandoci spazi per realizzare le nostre manifestazioni. Quest'anno abbiamo in programma una regata di Cap 31 che è una barca americana che sta tentando di venire in Mediterraneo. Siamo una delle cinque regate che verranno fatte in Mediterraneo. La prima la stanno correndo a Monte Carlo, poi ci sarà a Saint-Tropez, poi ci sarà a Cannes, poi ci saremo noi e a Sanremo. E poi a luglio riporteremo gli Optimist con una regata di selezione per andare alla Coppa del Presidente federale della FIV, chiaramente. E poi a settembre porteremo i mini solo, che sono queste barche da 6,50 metri che fanno l'Atlantico, di cui tanti appassionati comunque conoscono. In cui uno dei partecipanti a queste regate è Nicolo Gammenara, nostro socio e imperiese doc. e quest'anno la mini solo di Imperia sarà l'unica manifestazione in Mediterraneo in solitaria di questa classe. Contemporaneamente a questa regata rispolvereremo l'Imperia Giraglia Imperia, era nata per due persone, la regata adesso sarà sempre per due persone, ma aperta anche alle barche con equipaggio. Questo passando da una veleggiata che faremo con gli amici di Capoverde, torna a metà aprile. Questo per quest'anno e soprattutto ripartirà la nostra Scuola Vela.